Match da non sbagliare per la Gasseis Volley, impegnata domani pomeriggio al Palabanca contro Verona. Ad analizzare la partita è stato Riccardo Coppelli, centrale dei Biancorossi, ospite dell'ultima puntata di Zona Sport. Verona sicuramente è una squadra molto molto fisica, che ha nell'opposto la sua principale bocca di fuoco, l'opposto della Francia, che poi con varie vicissitudini è uscito dalla nazionale, ma sicuramente è un giocatore molto importante, una fisicità importante. A questi schiacciatori uno più di equilibrio, l'altro un giovane bulgaro, anche lui molto fisico, i centrali sono esperti, conoscono bene il campionato, insomma non sarà una partita facile. Da loro è stata molto combattuta, alla fine hanno vinto 3 a 2, anche lì se ben ricordo su un video check appunto, un 16-14, 15-13, un punteggio simile, insomma. Sarà una battaglia perché loro verranno qui per consolidare la loro posizione, e incominciare la fuga verso i play-off. Noi siamo a 6 punti, i play-off, loro sono la prima squadra dentro, quindi sicuramente vorranno venire qua col coltello tra i denti. Nel corso della trasmissione, assieme al giornalista Carlo Danani, spazio anche i commenti del turno infrasettimanale di Superlega Serie A2 di Pallacanestro, introdotti come sempre anche agli appuntamenti sportivi del weekend. Ospita in studio anche Rossella Cuomo, supermamma piacentina di 45 anni, che ha centrato un traguardo storico, ottenere la tanto sognata cintura nera di judo. Con lei il maestro Emiliano Ponzi e la dirigente del Centro Activity Club Maria Cristina Meloni. Finestra anche sul giugizio brasiliano con l'istruttore Filippo Fontana, l'istruttrice Mare Cacuomo e la giovanissima atleta Lucia Zucca. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo, come sempre, nuova puntata dedicata ai commenti del match del weekend. Grazie a tutti.